Questa sera alle ore 21 su TFN nuovo appuntamento con Pedipedi. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Amici di Pedipedi, ciao! Allora, oggi andiamo ad incontrare uno sportivo, ok? Quindi vediamo, siamo in orario Gianluca, penso di sì. Allora, intanto ricordiamo che alla camera numero uno c'è l'inossidabile e l'insostituibile Gianluca, ecco ve lo faccio vedere. Alla cameretta, come dico io, però giusto per fare qualche ripresa, ci sono io, Roberto, che vi porterò a conoscere le storie, i personaggi e i luoghi della nostra città. Allora, andiamo a bussare, vediamo se siamo in orario. Permesso? Entriamo. Oh, buongiorno! Eh? L'avete riconosciuto? Allora, io entro, buongiorno, buongiorno, tutto a posto. No, buongiorno. Mirko Scarantino. Allora, prima, un attimino Mirko, dobbiamo intanto microfonarti perché noi siamo così, siamo praticanti. Ah, subito. Sì, sì, sì. Ah, manca il tempo di esimo. No, perché sennò poi non si sente niente, dicono, e ci prendono a male parole, dicono, ah, sai, non si sentiva. Allora, questo lo puoi mettere in tasca. La ringrazio. Ecco, adesso siamo, siamo a posto. Allora, mi metto da questa parte. Come vedete, noi siamo proprio una live action. Ah, proprio così tutto sul momento. Sì, sì, sì. Neanche le scarpe ancora mi ero messe e già subito... Ma lo dobbiamo rifare questa cosa? No, tra le undici e mezzo io mi stavo preparando. Ma là siamo in anticipo. È già lui, ma che mi dici che siamo in orario? Siamo in anticipo. Vabbè. Vabbè. Come ho detto io, chissà, è questa. Che ci possiamo fare? No, 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 no.